e questi con queste braccia qua ti portano ancora a casa si è ehi chiamatemi così dovevo venirvi a prendere in mezzo al lago lei cosa dice? chiamatemi così ecco giui fatta su mamma ti ho voluto benissimo papà ti ho voluto benissimo Gianluca anche questi questi la farà tutta nuoto oggi ecco questa è la distanza che ci separa non ce la faremo mai è una grande paura l'Ungheria che attacca la Svezia precipito l'averso il traguardo con Rossi che adesso e non va ancora il numero dei colpi 116 118 a lei che sei il più forte del mondo a lei Beniamino ancora andiamo a vincere andiamo a vincere ancora e questo è il K2 italiano si guarda a sinistra si guarda a destra e vince l'Italia vince e come si dice per la leggenda e per quali campioni incredibile la vittoria di questa imbarcazione un turbodiesel signori e signori sembrava incredibile ma siamo riusciti a traccare al polo di al porto di il canotto della Lidl 39,90 euro in offerta e in offerta speciale anche i remi ecco un rambo provato dalla navigazione che non ce l'ho io questo è ancora in mezzo all'aria porco di porco di che brutto lei cos'ha da dire che è arrivato più tardi del gommoncino Reni si rende conto so solo che da dove siete partiti voi arrivare alla fermata alla stazione ferroviaria voi eravate già arrivati vedi troppo forti fratelli a bagnare fratelli a bagnare lo russo per ora è tutto aspetteremo di affondare più tardi per ora è arrivare Sì Grazie per la visione Grazie a tutti.